Buonasera, io mi chiamo Alessandro Fiorani, sono un istruttore di abitazione, per cui per noi è scontato che il cavallo sia un atleta, ma non è così scontato, cioè non era scontato, non era riconosciuto, adesso lo Stato italiano riconosce il cavallo come un soggetto che fa sport, oppure è un atleta, che ha questo aspetto delle implicazioni infinite da un punto di vista pratico. Se è considerato come atleta, comunque nella società acquisisce un ruolo superiore. Tutte le implicazioni che seguono lo status devono ancora venire. Questa cosa è inserita nella legge di riforma dello sport italiano, però il messaggio che deve passare oggi è che finalmente il cavallo non è uno strumento, ma è un atleta e la coppia è una squadra. Grazie.